buonasera ebbene tutti noi conosciamo la serie animata del canale certi tizi che fanno cose abbreviato ctfc e quanto è bello scoprire che la propria serie animata insieme al proprio canale che sono completamente sconosciuti sono omonimi di una squadra americana di football chiamata appunto ctfc che sta per perdonate il mio inglese che è fondamentalmente tedesco cheltenham town football crab e io odio questi ragazzi questi miseri umani con le loro schifose tag oscurano i miei video che chiaramente potete ben capire che sono meno famosi dei loro nonostante il mio canale sia nato molto prima ma non credo di poterli dare degli strike canale cioè una matata ragazzi allora mi sono chiesto quale fosse la probabilità che nella realtà ci potesse essere un'omonimia di acronimi e mi sono fatto due calcoli tenendo presente che le lettere dell'alfabeto sono 26 e che si devono combinare in sequenza di 4 ho fatto 26 elevato alla quarta ne è venuto quindi che la probabilità che ci fosse una coincidenza del genere è di 1 su 456.796 sono un ragazzo molto fortunato ma non è tutto perché scrivendo su google ctfc non comparirà soltanto questo chenkenham football crab qualcosa ma anche un crowley football eccetera club quindi ctfc anch'esso e il centre tecnologica forestal di catenonia e che anche questo quindi è ctf mannaia ladra c che parentesi a quanto pare è della catalonia e non vi siete rotti di rovinare la vita tutte le persone del mondo catalani e quindi moltiplicando la probabilità che la mia serie avesse un'omonimia con queste altre tre cose ne è venuto che la probabilità che questo cataclismico evento potesse avverarsi non fosse di 450 mila eccetera bensì di 1 su 92 biliardi 537 bilioni 640 miliardi e non sono affatto sicuro dell'attendibilità di questo calcolo ma che cosa volete da me che sono solo uno studente di liceo scientifico ebbene di fronte a questo ditemi voi se non mi debbo suicidare ficcandomi la luce nell'occhio bene detto questo ricordate che nella vostra vita sarete sempre più fortunati del sottoscritto e chiudo il video implorandovi di iscrivervi al canale perché sono povero e vi faccio anche presente che c'è una fantastica community di telegram il link ve lo lascio in descrizione dove escono meme eccetera di tutti di più faccio anche qualche spoiler sulla lore della serie perché c'è una lore ed è complessa ma nessuno la sarà neanche io e ora chiudo il video prima di diventare paralitico ciao ciao ciao